Cresce in città il problema della tossicodipendenza con i consumatori che per procurarsi soldi per acquistare la dose minacciano e aggrediscono le persone, vittime preferite, donne sole, anziane e minori. L'ultimo caso in ordine di tempo tra venerdì e sabato notte, vittima una 26enne di Montecchio Maggiore che con un'amica va trascorso la serata a Vicenza. Le due giovani stavano recuperando l'auto al Parc Verdi quando alle loro spalle è arrivato di corso un uomo che ha cercato di strappare la borsa che la 26enne aveva a tracolla. L'istinto gliel'ha fatta trattenere, ne è nato un tira e molla fino a farla cadere a terra, fortunatamente senza conseguenze. L'aggressore ha continuato a tirare, le urla dell'amica e la resistenza della ragazza alla fine lo hanno costretto a mollare la presa e a fuggire. Le due hanno poi chiesto aiuto al custode del parcheggio che dopo averle tranquillizzate le ha accompagnate all'auto. È l'ennesimo tentativo di furto con strappo e se non si può parlare di un'escalation del fenomeno di certo la frequenza è aumentata. Tossici che imbarbate le camere di video, sorveglianze e controlli non esitano a prendersi quello che gli serve. Spiccioli telefonini, poche banconote ma sufficienti per acquistare a stretto giro la dose di cui hanno bisogno.